Turisti che provano a distrecarsi tra le sommarie informazioni date dall'Infopoint e i pochi e non molto chiari cartelli presenti. Questa è la situazione che si presenta al City Terminal del Foro Boario, dove capire gli orari dei trasporti, i mezzi da prendere per raggiungere le diverse località o ancora di più avere informazioni utili sulla città è un vero e proprio rompicapo. Eppure l'Infopoint c'è, ma in pratica è uno sportello della linea di SGM. A confermarlo sono anche i cartelli esposti sulle vetrate, dove compaiono le scritte solo linee urbane. Per sapere gli orari acquistare i biglietti delle altre linee, compreso l'autobus che porta all'aeroporto di Brindisi, bisogna rivolgersi al vicino Bar Garden. Risultato, turisti spaisati, specialmente quelli stranieri. È difficile orientarsi, non parlano inglese. Con lo spagnolo cerco di farmi capire, però non è facile per noi comprendere le informazioni. Dove si prende l'autobus o si può acquistare il biglietto? Siamo in linea di massima, anche con le applicazioni ci siamo abbastanza organizzati, però poi abbiamo gli autisti che sono molto preparati e anche molto gentili che sono lì ad ascoltarti. È la prima volta che veniamo qui in Puglia, quindi non sappiamo bene come funziona. Per cercare di orientarsi, i turisti provano così ad affidarsi ad internet oppure agli autisti dei mezzi, che di fatto si sostituiscono all'Infopoint. Cerchiamo comunque anche noi stessi, come me e come altri miei colleghi, di dare l'opportunità al turista che viene. Siamo già informati, l'azienda nostra ci forma. Cerchiamo di fare il possibile, cerchiamo di fare il possibile che il turista non perda molto tempo, per non fare molti giri. Cerchiamo di fare il meglio, perché l'agenzia qua arriva spaisata e quindi... I turisti quindi ancora molto spaisati per informazioni? Quasi, sì, sì. Una situazione che va avanti da anni, denuncia il titolare del Bar Garden, che oltre a vendere i biglietti, ha esposto i cartelli con tutti gli orari e per come può, dice, cerca di dare informazioni ai turisti. Avendo un city terminal dove ci sarebbe un'informazione da dare, purtroppo sono anni e anni che ce li mandano tutti noi. Dovrebbe quindi esserci una maggiore attenzione da parte dell'amministrazione, secondo lei? Secondo me l'amministrazione è da anni che se ne parla, però ancora ad oggi non riescono a organizzare un city terminal all'altezza della situazione.